8 di maggio, manca esattamente un mese alla chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno, elezioni amministrative e Fabrizio Liva si candida come quarto candidato a sindaco di Pesaro. Lo farà con una lista civica che si chiama Spazi Liberi. Cominciamo intanto dal titolo di questa lista, come mai questi Spazi Liberi? Spazi Liberi perché è una lista che è stata creata principalmente da dei giovani e quindi ho fatto scegliere a loro, ovviamente concordando anche con me, una serie di tematiche importanti per i giovani e quindi abbiamo veramente lasciato spazio all'immaginazione. Questo annuncio in coda ravvicinato all'arrivo delle elezioni sembrerebbe una candidatura all'astminuto, invece è qualcosa di molto ponderato, già lo scorso anno l'aveva annunciato, come mai siamo arrivati all'ufficializzazione solo ora? Ma è molto ponderato perché la mia deve essere una candidatura un po' diversa, io ho l'idea molto chiare, c'è la volontà di candidarmi a sindaco perché ovviamente rappresento delle categorie, al di là di rappresentare delle categorie anche la città ha bisogno di un volto nuovo al di fuori del sistema che governa oramai da decine di anni e l'ho fatto in questo momento, uno perché il primo maggio ho presentato l'accettazione alla candidatura da sindaco che è la festa del lavoro, 8 maggio ho fatto la prima intervista e ho annunciato pubblicamente la mia candidatura a sindaco perché mancano 30 giorni delle elezioni, 3 perché la mia vuole essere una campagna etica, non voglio giocare sui manifesti, sulle cartelloni, su tante cose che i candidati hanno fatto oramai e stanno facendo oramai da 10 giorni, per cui la mia campagna elettorale sarà molto modesta e molto a contatto con la gente e poco mediatica nel senso che spenderò veramente poco, al di sotto dei 2.500 euro previsti dalla legge dove è previsto il comitente. Naturalmente lei viene da una storia di imprenditoria alberghiera lunga e anche con diverse tematiche portate sempre sui tavoli delle amministrazioni comunali correnti, questo è lo snodo principale che l'ha portata a questo passo? Sì, questo è uno degli snodi principali, ma la questione principale è che io comunque vivo da sempre a peso, amo questa città, sono partito dal turismo perché ovviamente ci sono molte problematiche legate al turismo, ma ci sono molte problematiche legate alla città, voglio dire l'arredo urbano, la bellezza, la pulizia, quindi sono tutte cose che mancano a questa città. La prima cosa che farò sarà quella di dare immediatamente una progettazione per quello che riguarda il lungomare, noi siamo una città dove il lungomare praticamente risale a 30 anni fa, oramai ci sono città limitrofe che l'hanno fatto per la seconda e terza volta, pulizia della città e poi ovviamente la movida dove va governata, non va mozzata, ma va governata, quindi questo cosa vuol dire che ci sarà un divertimentificio anche per i giovani, ma nelle zone giuste, d'altronde quando io ero giovane, adesso ho 60 anni, quindi quando ero giovane, tutti i luoghi del divertimento non erano sul lungomare ma erano nella periferia di Pesolo, se noi ricordiamo il derby o il caos che sono le nostre discoteche storiche, erano ai margini della città, quindi nulla vieta che ci si possa divertire, senza andare in Romagna e rimanere a Pesolo. Il 18 maggio presenterete la lista, i 29 candidati all'hotel Baia Flaminia, figurano anche alcuni esponenti di più Europa. Sì, risultano anche alcuni esponenti di più Europa che hanno deciso di aderire alla mia lista, più Europa, ovviamente tutti a livello di rappresentanza personale, ma ovviamente avendo un loro seguito tra gli iscritti e tra i simpatizzanti e quindi porteranno avanti alcune tematiche particolari, tra cui la più importante è quella della cultura. Abbiamo Pierpaolo Rolfreda, candidato, che è il candidato più anziano, anche se mio collega di liceo. Abbiamo il portavoce di più Europa, candidato e abbiamo altri ragazzi, altri giovani che fanno parte di più Europa, che fanno parte della lista.